Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo primissimo episodio della nuova serie Creo un nodo D, la serie nella quale vado di volta in volta a creare un full nodo delle principali blockchain. Oggi volevo partire con una delle più importanti blockchain, sicuramente sarei partito con Bitcoin per poi proseguire con Ethereum, ma alla fine ho pensato di fare una grandissima eccezione e partire da un progetto ai più sconosciuti. Questo progetto si chiama Shardeum, si tratta di un layer 1 con compatibilità all'Ethereum Virtual Machine, quindi di fatto ci si interfaccia con Metamask e l'esperienza utente è analoga a quella che abbiamo già con Ethereum. Il motivo che mi ha spinto a portare Shardeum come primo progetto sul quale andare a creare un nodo è in realtà dublice, perché mi permette di chiedere un po' il vostro parere, incominciare a sondare il terreno, se vi stuzzica l'idea contemporaneamente a questa serie anche di una serie dedicata agli airdrop, andando di volta in volta quindi a selezionare quei protocolli e quei progetti al fine di cercare di recuperare un po' di airdrop. Ovviamente si tratta di ipotesi che non hanno mai fondamenta se non qualche rumors, che però spesso ha degli ottimi profitti in termini di risk reward. E con questo video colgo un po' la palla al balzo per dare la luce alla serie Crea un nodo D, perché effettivamente creeremo un nodo validatore di Shardeum in testnet, perché al momento non è ancora stata lanciata la mainnet di questo progetto, ed è il motivo per cui infrangerò la regola dove vi avevo detto che non andrò a creare nodi validatori durante questa serie. Ma qui faccio l'eccezione perché non trattandosi di mainnet, tutti i token non hanno valore reale, e anzi incentivano le persone a creare dei validatori in testnet proprio per aiutare la rete e testarla. E quindi siccome si vocifere anche di eventuali e possibili airdrop per quanto riguarda Shardeum, soprattutto nei confronti di chi ha aiutato la rete a crescere agli inizi, quindi adesso, perché no a chi ha fatto da validatore, allora ho colto la palla al balzo, vi porto questo progetto, mi raccomando nei commenti fatemi anche sapere se vi dovesse interessare una serie dedicata agli airdrop, io ci sto pensando molto, mi piacerebbe portarvela, ma anche per quella serie lì avrò bisogno fortemente del vostro feedback per capire se vi interessa, se la guardate volentieri, io avevo pensato anche a qualcosa che potesse accompagnarci insieme nel fare ripetutamente e costantemente le operazioni dedicate agli airdrop. Comunque insomma non voglio rubare tempo a questo video, fatemi sapere nei commenti, ne riparleremo sicuramente. Tornando a noi, partiamo con quelli che sono i requisiti da soddisfare per quanto riguarda l'hardware. Shardeum nella documentazione ufficiale ci indica quali sono i requisiti che noi dobbiamo avere, non sono devastanti, almeno per quanto riguarda questa test rent, parliamo di 200 GB di SSD, quindi piuttosto regolare, processori piuttosto standard, un dual core per i processori moderni va più che bene, 16 GB di RAM, quindi sicuramente non poca, ma ormai 16 GB di RAM di fatto ce l'hanno anche i computer portatili, e infine una connessione a internet comunque piuttosto ampia, sempre per il fatto che un nodo consuma parecchia connessione dovendo comunque interfacciarsi con tutti gli altri nodi e scaricare anche la blockchain. Quello che ho fatto io è stato noleggiare una VPS, quindi una macchina virtuale in cloud, nel particolare io ho noleggiato una soluzione di Contabo che vi consiglio, nel quale voleste provare anche voi a creare nodi su server virtuali, visto che tipicamente è tra le più economiche. Su Contabo trovate una VPS del valore di circa 10-15 euro al mese che soddisfa tranquillamente questi requisiti ed è proprio quella che ho scelto per poter poi effettivamente montarci sopra il mio nodo. Quello che succede ora è molto semplice, ci spostiamo al computer e noi step by step andiamo a creare il nostro nodo. Unico spoiler, chiaramente vi salto tutta la parte con cui mi sono collegato alla macchina virtuale, dato che non è fisicamente qui, prima bisogna collegarsi alla macchina virtuale. Questo tipicamente avviene con un collegamento SSH, che è un protocollo di comunicazione cifrata e che consente di accedere appunto alla macchina virtuale comprata. Detto questo ragazzi ricordatevi un bel like per supportare la serie, per farmi capire che vi piace, un commento qua sotto per stimolarmi anche un po' e capire quali blockchain potrebbe essere interessanti portare su questa serie. Detto ciò, buona visione! Ci siamo ragazzi, da questo lato ho la documentazione ufficiale di Shardeon per andare a creare un full node. Caso speciale per questa blockchain, essendo ancora tutto in testnet, andrò a creare un nodo validatore, che quindi effettua anche operazioni relative al consens sul blockchain. Da quest'altra parte invece abbiamo il nostro bellissimo terminale. Detto questo, partiamo, quindi come step 1 dobbiamo andare ad installare tutti i prerequisiti che poi ci saranno necessari per installare effettivamente il client validatore di Shardeum. Come prima cosa dobbiamo quindi andare ad installare CURL, che è uno dei protocolli più semplici per la trasmissione di dati, sfruttando diversi tipi di protocolli, tra cui anche, diciamo, TCP, UDP, che poi sono quelli utilizzati anche dai browser per navigare su internet. Andiamo proprio banalmente a copiare e a incollare questa stringa e ci siamo. In realtà era già installato, tipicamente CURL è già installato in tutti i computer, i calcolatori che montano Linux, però noi l'abbiamo provato comunque. A questo punto ci sta sempre un bel sudo apt update, che di fatto serve per aggiornare tutti i package che sono già contenuti all'interno del sistema. È una sorta di aggiornamento che andiamo a fare al nostro sistema per fare in modo che sia tutto aggiornato ad oggi. Lanciamo il comando sudo apt install docker.io che è di fatto il comando per installare docker.io che possiamo vederlo come un grande recipiente, una sorta di ambiente virtuale già pronto sul quale poi noi andremo a mettere il nostro nodo validatore. Docker.io non è legato esclusivamente a Shardeum ma è proprio un qualcosa che molti progetti utilizzano perché fornisce un ambiente, ripeto, già pronto. Spesso può essere più semplice andare a lavorare all'interno di un docker già preconfigurato con chiaramente il contro di essere poi più lento. Ok, ci siamo. A questo punto possiamo andare avanti con il comando docker-version che di fatto è un comando che testa, scusate, se effettivamente è stato installato correttamente e lui ci restituisce poi la versione. Quindi versione 20.10.21 con il numero della build quindi sì, ok, lo abbiamo installato effettivamente in maniera corretta. Molto bene. Andiamo a lanciare un comando che utilizza cURL perché gli daremo in passo infatti un indirizzo web con l'obiettivo di andare a installare ancora qualcosa che ci servirà in realtà solamente per il docker quindi solo per il contenitore all'interno del quale poi faremo girare effettivamente il nodo validatore. Diamo anche il comando sudo chmod più x sul docker-compose che di fatto vuol dire che gli stiamo dando anche la possibilità di essere eseguibile e anche adesso andiamo a testare il docker-compose se lo abbiamo installato correttamente tramite il comando meno-version e anche in questo caso ci risulta installato correttamente. Adesso andremo a installare il vero e proprio client relativo a Shardeon quindi per fare un po' di pulizia andiamo a dare il comando clear e incolliamo effettivamente quello che è il comando per installare il nostro client. se vogliamo leggerlo anche un secondo c'è url l'indirizzo web che è l'indirizzo dove ci sta proprio l'installer di Shardeon e poi lo andiamo anche a rendere eseguibile col chmod più x quindi lanciamo il comando chiaramente stiamo aderendo al fatto che Shardeon possa collezionare i dati del funzionamento diamogli l'ok qui ci chiede se vogliamo poi andare anche a eseguire la web-based dashboard e io gli dico di sì perché è utile per capire poi cosa sta succedendo sul nostro nodo quindi gli diamo l'ok lasciamo la porta di default che è l'8080 e anche qui lasciamogli la porta 9001 che è quella di default anche la directory che utilizza gli lasciamo quella di default e lasciamo che lui effettivamente scarichi e installi il nodo validatore a questo punto andiamo proprio ad avviare il nodo perché lo abbiamo scaricato ma non è stato ancora avviato e quindi non ha ancora incominciato effettivamente a comunicare con altri nodi e a scaricare una copia locale della blockchain e in questo caso specifico che sarà anche validatore non ha ancora cominciato a effettuare operazioni di consenso quindi in primo luogo a meno che non abbiamo scelto una posizione particolare in fase di installazione dobbiamo andare nella cartella punto shardem semplicemente con il comando cd qui se vogliamo vedere quali sono tutti i file presenti vediamo che ce ne sono davvero tanti ma importanti per noi ce ne sono due docker compose yml qui non voglio scendere nei particolari ma sarà proprio quel file che permette poi al nodo effettivamente di partire e shell sh perché è lo script che poi permetta tutto il resto di essere eseguito quindi andiamo a lanciare lo script shell.sh e così facendo ovviamente mi sono dimenticato lo slash come notate adesso ci stiamo direttamente interfacciando con il nodo quindi è come se fossimo entrati nel terminale del nodo e non fossimo più nel terminale della mia macchina virtuale che alla fine prende il posto del mio personal computer perché è la stessa cosa l'avrei potuto fare direttamente anche sul mio computer in questo momento il nodo però non è ancora stato attivato sono semplicemente entrato all'interno del suo terminale e quindi lo devo attivare per attivarlo si può fare sia a livello testuale che a livello grafico perché se vi ricordate in fase di installazione io ho aderito ad installare anche la web dashboard e quindi adesso ve le metto una a fianco all'altra eccoci qui a sinistra abbiamo la web dashboard a destra abbiamo il terminale in questo momento il nodo l'ho già avviato per farlo si potevano scegliere due strade o premere il bottone start node adesso ovviamente mi compare stop perché l'ho già avviato oppure all'interno del terminale del nodo digitare il comando operator cli start questo comando avrebbe fatto partire il nodo quindi l'avrebbe fatto connettere con altri nodi e avrebbe incominciato a scaricare la blockchain nel caso specifico ho anche già messo lo stake necessario per diventare validatore non lo sono ancora vedete che sono in stand by in realtà ma questo poi non è importante ai fini del video dove l'obiettivo era riuscire a creare un full node in questo momento io ho un full node non sono ancora validatore ma poco importa e per quanto riguarda come faccio a sapere che cosa sta facendo il mio nodo se sta bene o se sta male beh io ho sia la parte di web dashboard dove posso vedere tutte le performance quindi quanto sta consumando cpu ram disco e network che anche ovviamente il terminale per esempio c'è il comando operator cli status e qui potete trovare una serie di informazioni interessanti come lo stato del validatore che è in stand by semplicemente perché non sta validando da quanto tempo sta effettivamente eseguendo il tutto quindi da quanto tempo è running e altre informazioni utile nel particolare quelle delle performance quindi quanta memoria sta occupando quanto disco cioè quanto spazio su disco sta occupando quanta cpu sta occupando e altre informazioni relative proprio al progetto specifico ragazzi facciamo un po' di considerazioni finali della creazione di questo nodo per quanto riguarda l'hardware necessario non stiamo parlando di requisiti devastanti e quindi anche il prezzo della macchina virtuale è piuttosto accessibile addirittura se avete un computer che magari non utilizzate potrebbe fare al caso vostro poi per quanto riguarda la facilità di installazione io ritengo che sia estremamente guidato e quindi anche chi non ha dimestichezza con la linea di comando superate le prime difficoltà perché sicuramente non si è abituati ci si può sentire un po' espaisati ma se banalmente fa un copia e incolla il nodo lo riesce a creare poi magari non riesce bene a gestirlo perché possono capitare i più svariati problemi però diciamo che a creare il nodo se tutto va liscio ci dovrebbe riuscire veramente chiunque basta un po' di pazienza e un po' di voglia certo che un altro conto sarebbe leggersi tutto il codice e capire effettivamente quello che sta girando sul nostro computer però non è proprio l'obiettivo di questa serie e poi ve lo dico davvero col cuore se io mi dovessi mettere a leggere il codice di tutte queste blockchain che andrò a creare di fatto dovrei fare un video all'anno e in più magari alcune non riuscirei nemmeno a capirle avrei bisogno di aiuto quindi bisogna anche fare una selezione magari bitcoin lo si può studiare davvero a fondo Ethereum anche se non è interessato quelle blockchain su cui è interessato anche uno può andarsi a leggere il codice ma poi per questa serie diciamo che andrò a scaricare i nodi senza andare effettivamente a leggere il codice ciò non toglie che il codice di Shardeum è pubblico e chi volesse leggerlo lo trova su GitLab che è un analogo di GitHub vi ricordo che se voleste effettivamente perseguire step by step quello che ho fatto in realtà vi ho fatto vedere abbastanza tutto magari qualche piccolo passaggio l'ho saltato ma trovate nella descrizione il link alla documentazione ufficiale di Shardeum che vi guida proprio step by step lì non potete sbagliare e riuscirete anche voi a creare il vostro nodo validatore di Shardeum in testnet detto questo ragazzi fatemi sapere davvero cosa ne pensate di questa serie consigliatemi le blockchain che vorreste vedere io vi ringrazio per la visione e come sempre ad Maiora grazie a tutti